L'ultimo episodio No, scusami, apporto! Vieni tu, vieni! Ok, motore partito! Audio partito, motore partito, check in campo! Azione! Vai, vai, ripeto! Continuiamo, continuiamo, vai! Motore? Non c'è? Ok, sì, ve lo c'è. Vai, ci sono! Motore partito, check in campo, non c'è nessuno. Check! Motore avviato! Non si vede nulla, spero, vero? No, no, vai, vai, ora va bene. Vai! Audio partito, motore partito, check in campo! E... Azione! Azione! No, dai, cazzo, era venuto benissimo! Dove cazzo vai? Io devo andare qui a farlo, ecco. Ah, dimmelo cazzo! Non ti ho mai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.